Cattolica Ereclea sotto shock nel piccolo centro dell'Agrigentino in queste ore non si parla d'altro. La tragica fine di un cinquantenne senza un proprio tetto lasciato nella solitudine ha scosso le coscienze, una morte per di più disumana. Il corpo che dovrebbe essere quello di Liborio Campione è stato trovato carbonizzato all'interno di un capannone che ha preso fuoco molto probabilmente a causa del malfunzionamento di una delle stufe elettriche presenti per riscaldare l'ambiente. I carabinieri hanno accertato che l'uomo viveva in una porzione di quel deposito. Uno dei primi ad arrivare al capannone di Contrada Balata è stato Donnino Giaraputo, il prete di Cattolica Ereclea. Viveva in questo luogo faticente, isolato dal paese, al buio, ha detto Donnino. Io penso che la solitudine è una componente importante di questa sua tragedia. Ha voluto salvare il cane, il suo unico migliore amico. Stiamo vivendo un momento doloroso. Liborio, oltre ad essere una persona sola, non faceva male a nessuno. Era solo ed era buono. Sono ancora le parole del parroco che poi ha osservato. Era un disoccupato. Veniva alla mensa della solidarietà. È stato con me ieri perché abbiamo preparato la processione dell'Immacolata. Viveva stento. Prima di mangiare lui, dava da mangiare al suo cane. Voleva essere indipendente. Gli dicevo sempre che poteva venire da noi in caronica, ma ha sempre detto di no. Non voleva rinunciare al suo animale. Oggi ci si preoccupa di tutto, di tanto, ma è tempo di preoccuparsi anche della povertà. Sono ancora le parole di Don Cerraputo. Intanto, sul fronte delle indagini, sul capannone e i reparti scientifici dell'arma effettueranno dei rilievi ed attenderanno la perizia che dovrà essere depositata dai vigili del fuoco. Nessun dubbio però sul fatto che si sia trattato di un drammatico evento accidentale. La procura, naturalmente, ha aperto un'inchiesta. Grazie a tutti.